E' stato sempre un mistero per me quello che si poteva celare dietro quel portone. Questo è il parco del castello di Donna Fugata e questa è la Coffee House. Perché siamo qui? Perché abbiamo vissuto una serata meravigliosa, oltre lo spazio e il tempo. E abbiamo visto i giganti della montagna, un immenso Luigi Pirandello, interpretato dalla compagnia Godot. E qui siamo davanti alla Coffee House, seduti sui gradini della Coffee House. Allora, veramente sgomenti dalla vostra bravura. Sì, perché il pubblico, il religioso silenzio vi ha seguiti, ma quanto avete provato? Perché veramente, altissima qualità. Allora, abbiamo provato tanto prima, diciamo, dell'apertura di questa stagione. Perché noi abbiamo coltivato il sogno di mettere in scena questo testo, che per noi è una metafora straordinaria dell'amore per l'arte, per la poesia, dell'abnegazione dell'artista nei confronti del teatro. È un atto d'amore che Pirandello ha fatto per il teatro, per la passione che c'è dietro, per il sacrificio, per la sofferenza. E per noi era importante farlo in questa stagione, per quello che abbiamo vissuto in questi terribili mesi. Quindi abbiamo iniziato a coltivare questo sogno da marzo-aprile, abbiamo iniziato le prime letture, i ragionamenti, Vittorio ha iniziato a pensare a come strutturare la regia di questo spettacolo, che naturalmente ha debuttato poi a luglio, fine luglio, sulla scalinata, dove noi da tanti anni ormai proponiamo la stagione estiva a palchi diversi al castello. Siamo all'undicesima edizione. E poi, come ormai si è saputo, è cambiato tutto, è cambiato tutto nel giro di un giorno, perché è successo qualcosa che nessuno può controllare e sapere prima, cioè alcuni rami di alberi secolari del castello sono caduti, si è creato un pericolo, quindi naturalmente si è dovuto transennare proprio quella parte dove noi eravamo soliti mettere la platea. E nel giro di una giornata, tra il giovedì e il venerdì, noi il venerdì sera 20 debuttavamo Shakespeare, abbiamo dovuto ripensare come allestire tre spettacoli in un luogo diverso ed è stata un'idea di Vittorio proporre la Coffee House, perché se no in alternativa si poteva anche chiudere, c'era il rischio che si chiudesse l'intero parco, insomma eravamo tutti legati a un filo. Lui ha proposto questo, alla fine si è deciso di andare avanti così e poi per realizzarlo alla Coffee House l'abbiamo fatto con due brevi prove, una una mattina sotto il sole coccente, quando la sera però dovevamo debuttare con Shakespeare e una la notte del lunedì, dopo la mezzanotta abbiamo provato due tre ore, devo dire con questa disponibilità anche da parte del custode e siamo riusciti il martedì a realizzare questo sogno, e cioè di continuare l'avventura dei giganti, di portare l'arte e la poesia di Ilse tra gli uomini e il pubblico è stato meraviglioso, le sere di luglio sulla scalinata e queste sere le abbiamo sentito più vicino, perché qui alla Coffee House il pubblico ci abbraccia a semicerchio, veramente siamo appagati, emozionati, grati, con tutti, per tutto, per tutti e siamo felici. Il mago, che veramente ha fatto le magie, perché per portare lo spettacolo dalla scalinata, che ormai insomma è tutta vostra, perché ne conoscete ogni scalino, qui alla Coffee House la magia del mago Cotronè. Io non so cosa ha detto Federica, ma penso che vi abbia detto tutto, perché ho avuto il tempo di... Ho fatto pochissimo perché siete stanchi morti, perché veramente questa opera è immensa. Ho avuto il tempo di smettere gli abiti di Cotrone e di cambiarmi e tornare qui alla Coffee House, dove abbiamo trovato un luogo che sapevamo fosse così suggestivo. L'unico handicap è la platea su un unico piano, e però sistemando le sedie in un certo modo la visuale è perfetta da tutti i punti di vista. Certo la scalinata per noi è ormai casa nostra e dopo 11 anni doverla abbandonare c'è un po' sembrato strano, però anche qui abbiamo ritrovato la magia. Poi questa Coffee House è così chiamata con un nome, con un anglicismo, possiamo chiamarla, che ne so, casa di Cotrone ormai, perché è proprio la stessa casa che descrive Pirandello all'inizio dei Giganti della Montagna. Invece di avere... Villa Scalogna? Se tu leggi, proprio questo, ha pensato Federica di dire proprio questo all'inizio nella presentazione, invece di tre scalini ne ha quattro, però è uguale il colore, le colonne, l'atmosfera, sembriamo immersi proprio nella villa degli scalognati. Che ti devo dire? Sono state serate concitate, giorni concitati, ma di grande spessore, di grande emozione. Un pubblico straordinario che ci ha di nuovo ripagati, anche se appunto con questo discorso del pass, dei tamponi, insomma ci sono stati dei disguidi abbastanza pesanti, però siamo riusciti a portare avanti il nostro carro di tespi. Veramente straordinario il pubblico in religioso silenzio, non si è perso neanche un respiro degli artisti. E sicuramente anche voi avete sentito, ci avete sentiti così vicini, così partecipi. Infatti questo luogo mi riporta al piccolo teatro di Catania, quando noi recitavamo proprio a contatto col pubblico, e questa è la cosa meravigliosa, come se fossimo in un teatro greco. Ma ti devo dire, la cosa che mi ha impressionato delle prime repliche di luglio, quando abbiamo debuttato sulla scalinata, sono stati i bambini. Io pensavo che questo testo fosse anche molto ostico per... Invece i bambini, così come succede per il teatro dell'assurdo, hanno capito tutto. E sono rimasti incantati, vuoi per i fantocci, vuoi per le scene un po' di ballate. Anche i bambini giocano a far finta. Bravissima. Mi hai tolto le parole di bocca. Ecco, giocano a far finta. Quindi reale ed irreale, questa magica follia. Esatto. Proprio quello che dice Cotrone nei suoi monologhi, cioè fate come fanno i bambini, cioè fanno il gioco, poi ci credono, lo vivono come vero. E il pubblico dei bambini ci ha regalato delle cose straordinarie. Ma tutto il pubblico, io vedo proprio... Anche mi hanno detto che si sono commossi. Degli spettatori stasera sono ritornati. Ieri erano venuti e sono rimasti talmente entusiasti che sono voluti ritornare a rivedere lo spettacolo. E questo è un regalo straordinario per noi. Un attore, un regista non può chiedere altro. Cioè il pubblico che ritorna a rivedere lo stesso spettacolo.